Un interessante e partecipato workshop ha fatto da Apripista d'Acate nei locali del Castello al secondo incontro da parte del Galvalli del Golfo con i comuni di Acate, Vittorio e Comiseggia la confronto. Nell'occasione è stata presentata la piattaforma web TechSop Opportunities con interventi del sindaco Franco Raffo e dal dottor Giuseppe Di Dio, direttore tecnico del Gerisvi. L'aspetto più importante di questo progetto, ha dichiarato lo stesso Raffo, è il coinvolgimento dell'associazione di categorie alle quali, unitamente ai rappresentanti dei quattro comuni che aderiscono al Galvalli, stanno attivamente lavorando per individuare le potenziali peculiarità del nostro territorio, lodevole inoltre la partecipazione all'incontro di diversi imprenditori acatesi i quali avranno anche loro l'opportunità di diventare parte integrante del progetto innovativo nell'agricoltura, in piena sintonia con le finalità del Galvalli e con quanto espressamente richiesto dalla comunità europea. Al momento, dice ancora Raffo, siamo in una fase avanzata del progetto che ci permetterà di vivere, pagine nuove della storia dell'economia delle nostre contrade, grazie a questa innovativa collaborazione tra più soggetti territoriali. Bisogna solo mettersi insieme e fare rete e sistema e poi, conclude Raffo, smetterla di restituire a Bruxelles i fondi europei destinati alla Sicilia.